e giovani ci troveremo qui sopra al palco, tutti quanti alla fine allora, volevo ringraziare anche l'associazione culturale FOA, Festival di Ossia Antica che collabora con Stella Maris per la realizzazione di questo festival allora, siamo pronti per il prossimo concorrente, Barbara, un applauso grazie a tutti 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 grazie a tutti